Ecco Pascano, Edna O'Brien che ha vinto il premio per la narrativa. Ciao Chiara, io facevo il comitato d'accoglienza per Edna O'Brien. Ciao, come sei? Sono molto bene. Io ti amo, io sono in giurio, io volevo te, te e te. E quindi ho succeduto. E tutti qui mi ringrazano, mi ringrazano, dicono che stanno leggendo il tuo libro e sono entusiasti, tutte le persone qui. Ok. E questo è il mio amico. Ciao. Bene, bene. Grazie a te. Qual è il tuo nome? Cinzia Tani. Sono scritta. E lei è stata la mia presa. Presse office. Presse office. Years ago. Can you say hello to everybody in Italy? We want a good force on the North State. Does she want the trio? Thank you. There's still one now. Thank you.